Isernia a nome di tutta la provincia chiede una nuova legge elettorale regionale. La mozione passata all'unanimità in Consiglio Comunale è stata presentata da Davide Avicolli della componente renziana del PD a nome della lista civica Isernia di tutti e prevede l'abolizione del listino e la divisione dei consiglieri regionali in ragione di un terzo a Isernia e due terzi a Campobasso. Attualmente la provincia di Isernia ha solo tre rappresentanti su 21, in sostanza un settimo dell'assise regionale. Non abbiamo un'adeguata rappresentanza insieme al Consiglio regionale, quindi come Isernia di tutti proponiamo al governo regionale una modifica della legge che permetta ad Isernia di avere una rappresentanza giusta. Il documento ovviamente è politico, quindi una suddivisione di due terzi dei seggi per la provincia di Campobasso, un terzo per la provincia di Isernia, soprattutto con l'abolizione del listino. Anche il centrodestra ha votato compatto a favore della proposta e non sono mancate critiche pesanti all'atteggiamento di un governatore della regione che sembra non tenere in alcun conto le ragioni di Isernia e della sua provincia. Noi della minoranza appoggiamo senz'altro questa proposta della lista di Isernia di tutti per la modifica della legge elettorale, per dare una rappresentanza più pregnante, più importante a Isernia, visto che Isernia rappresenta un terzo della regione molise. Quindi avere una giusta rappresentanza, un'equa rappresentanza per poter portare avanti le problematiche della nostra provincia e del nostro territorio, delle nostre comunità. Devo dire, io ho aggiunto delle critiche per la verità e nel mio intervento perché sino ad oggi, da quando si è insediato questa giunta regionale, non c'è stato un provvedimento a favore di Isernia. Anzi, quando abbiamo invocato un aiuto abbiamo sentito la lontananza della regione, pensavamo di poter appellarci a un senso di responsabilità, di poter avere un punto di riferimento per i nostri problemi, che sono problemi sociali, problemi legati alla cultura, ma dal più semplice come quello dell'università, che è un problema per Isernia sentitissimo. Rischiamo di perdere le nostre facoltà perché non viene pagato un canone d'affitto quando prima la regione c'era vicino su questo aspetto. Quindi non abbiamo avuto un segnale dal nostro Presidente che è venuto a Isernia solo per questioni di campagna elettorale o per altri motivi, ma non certo per avvicinarsi ai problemi della nostra comunità. Quindi il mio invito è quello di fare in modo che il nostro Sindaco porti qui da noi il Presidente per sentire direttamente le nostre istanze, per sentire quali sono i problemi di questo territorio, per fare in modo che finalmente questa regione si accorga del nostro territorio. Evidentemente ci vuole una legge affinché la nostra giunta regionale, il nostro Presidente si accorga del nostro territorio.